Non hai mai tempo per riposare e rilassarti? O peggio ancora, trovare quei dieci minuti solo per te stesso? Cazzate! Perdona l'eufemismo, ma sono cazzate, ripetiamolo. Perché? Perché pensi di non avere abbastanza tempo, perché pensi di non meritarti il tempo per te stesso. Ma in realtà, se provi a guardare durante l'arco della giornata tutto il tempo che perdi sul cellulare, tutto il tempo che perdi tra chiacchiere, tutto quello che fai, riusciresti a recuperare quei miseri dieci minuti per dedicare del tempo a te stesso. E soprattutto per dedicare del tempo di qualità al riposo e al relax. Perché ognuno di noi ha bisogno di quel tempo per ricaricare le batterie, altrimenti il cervello si fonde, il corpo parte. Quindi è inutile, se ti racconti questa storia, stai tranquillo che io conosco gente che lavora con tre figli a carico, che ha mille impegni e trova comunque il tempo per il proprio riposo. Se invece te lo racconti perché pensi di non meritarlo, anche lì, smetti immediatamente perché non serva a niente. Questo è un discorso che non ti porterà da nessuna parte. Per cui metti in pausa questo video e prenditi questi dieci minuti di relax perché te li sei meritati, perché il tuo corpo ne ha bisogno e la tua mente ne ha bisogno ancora di più.